E' bello a tutti ragazzi, sono LionBite che vi parla e siamo al non so che video è, quarto mi sa, si il quarto, e tutto di seguito, ah, potevamo buttare qua il ferro semplicemente, bene, ora, ho recuperato queste cose, butto questo dentro, questo qui, qui, e qui, tutto di seguito. In pratica, è tutto di seguito per davvero, bene, alziamo un pochino il cavalletto, sto per fare una cavallata, niente, ok, scusate, saliamo, ragazzi, devo trovare qualche scheletro, ahhh, per questi video, oh, aspettate, lascio la casa incostruita, che lo sono, troppo tardi, va bene, anzi ragazzi, io passerò la notte sotto casa, si, ho deciso, Spacco questo? Niente, perfetto, ahia, spina, ho una spina sul dito, eh, sul medio, una spina sul medio, ragazzi, dolore, ora, ragazzi, questo ferro me lo tengo, non avrò di più, tipo 26, mi potrò fare l'armatura completa, per ora che mi faccio quello in pelle, Che tempo è? Oh, raga, lascio così, lo sapete perché? Perché almeno da qua posso vedere che, diciamo, no, ora, che ore sono, che, se è notte o è giorno, bene, così facciamo tan, tan e tan, Speriamo, non mi ricordo come si fanno, però, vabbè, Ah, così 20 frecce, benissimo ragazzi, intanto facciamo la ghiaia, scusate se questo video andrà un pochino muscio, però, niente, 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 eh, ok, è uno, dai, ma chi se ne frega ragazzi, ci soffiamo e basta, allora, mettiamo dentro questo, questo e questo, bene, intanto le torce, che facciamo? Mentre che diventa notte, dovrei stare di sopra, ad aspettare che fa ovviamente buio, ma ragazzi, sentite, io vado a dormire immediatamente, no, non si può dormire, facciamo, dai, un'altra freccia, ah, aspettate, non so se fare la freccia, vabbè, dai, facciamola, poi ritroveremo ugualmente, Ehm, imparerò a fare queste frecce, una volta fatte dopo 5 secondi, no, bene, cagnolini, cucucucucu, cioè, lupetti, bene, è sera, volete spawnare mostri, spawnate, Ho messo difficile, ora dovete spawnare, venite, no, 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 io metto il rumore, scusate ma devo sentire, Scusate se starò zitto, Nessun mostro? Strano, ragazzi, io metto azioni, facili, 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 ok, normale, facciamo normale, mangiamo, Pucci Pucci, dovete essere prima domesticati però, Ok, andiamo sopra, Zombie, vieni qua, vieni qua, ma nessuno scheletro, sono zombie, Tristezza, Tristezza, Qui, Oh, eccolo uno, Uccidimi, Ah, ti uccido, Qualcosa? Mi ha aiutato? Quattro frecce, basta? Solo quattro frecce? C'è un altro, Tu? Niente, Ragazzi, sto troppo vicino, Oddio mio, L'armatura ti sta bene, Me ne dai un pezzetto? Oh, Sì, me l'ha dato, Quanti pecore? Deferno, Bene, Entriamo nel bosco, Che è capace che troveremo qualcos'altro, Comunque che sfiga ragazzi, Abbiamo trovato gli scheletri, Voglio le ossa, Vediamo se così funziona, Per il momento io voglio solo, Avere di cani e basta, Tanto cani o no, Ce l'ho sempre, Casa o no, Sta là, Ho visto appena, Mi sono salvato, Ok, Quella è una caverna, Quindi ci potremmo, Possiamo, No, Non è una caverna, Quindi non ci possiamo andare, Costa un pollo con un uovo, E siamo a dieci, Di poglie, Cioè, Di uova, Io potrei andare qua, Solo che poi se mi perdo sono cavoli, Dov'era? Cosa? Cosa diamine? Ma che? Scusate se non troverete più la luna, No, La troverete ancora, Non è nulla questa, Torniamo la spada, Mi sta anche per finire, Quindi se troveremo, Un mostro saranno cavoli miei, Dove sta questa, Ah, Eccola là, Eccoci qui, Ok,